e non vediamo l'ora di ascoltarti ok Amen Amen Gloria a Dio io sono molto felice e onorato di essere invitato a predicare qui sono brasiliano parlo male italiano c'è il pericolo che quando finisce il culto tu parlerai come me io da sette anni ho una missione in Inglaterra e loro parlano come me adesso sono tutti italiani è una cosa incredibile è vero che Gesù sta ritornando e che il mondo sta diventando un po' strano vero? la Isis Islam ma c'è una cosa interessante io ho letto l'ultima pagina della mia Biblia e abbiamo vinto abbiamo vinto Gesù è sul trono e noi siamo in cielo per questo può succedere quello che può succedere abbiamo vinto già Dio è così potente che ha scritto il finale non è incredibile? e mentre il mondo è strano io nella mia missione ho batizzato una musulmana Sara piena del Espirito Santo sto per batizzare il secondo musulmano e Sara mi ha raccontato che in Marocco nella moschea molti musulmani inginocchiato pregando a Gesù in lingua Dio salva e dice resta lì perché un musulmano non si converte ascoltando l'infedele ma ascoltando un altro musulmano e c'è molti musulmani lì convertiti a Gesù parlando in lingua che stanno parlando di Gesù a altri questo non è notizia in giornale per questo Gesù Cristo ha il controllo di assolutamente tutto Amen in finale tu troverai delle prediche noi abbiamo portato quando viaggio i cd sono un mezzo che tu hai per aiutare il nostro ministero a Londra non so i cd offerta ogni cosa che ricevo quando viaggio è per aiutare lì noi abbiamo dei messaggi Dio sorprendente Gesù è strano o no? è strano ha scelto dodici discípoli che io non voglio neanche come amici Pietro è un uomo pericoloso cioè viene quello a parlare con Gesù lui prende una espada allora la mia domanda è un pescatore con la espada ma dove hai trovato con la espada? e come era era un pescatore e non sapeva usare la espada tolto solo l'orecchio perché voleva la testa e Gesù ha pure messo l'orecchio cioè Gesù ha certo dei discípoli poi Gesù con suo ministério ha scandalizzato tutto tu vedrai quattro evangelio Gesù di lunedì a lunedì è in festa primo miracolo acqua e vino può capire? e per pagare la tazza cosa fa Gesù? inventa il banco mate perché in quel caso era un peixe mate Pietro ha proprio la bocca del peixe e tolto solo l'orecchio di banco mate invenzione di Gesù ora Gesù era strano vero? Dio sorprendente siamo pecore tutti vogliono essere leone acola ma Dio chiama di pecore e pecore è l'animale più stupido del mondo è vero pecore non impara perché Dio ci chiama di pecore? perché nel regno di Dio esiste una legge tu sarai libero 100% ma non sarai mai indipendente voglio ripetere tu dipendi della persona vicina a te tu non sei indipendente amè? pecore non è indipendente 50 anni mangiando lì 50 anni non capisci il pastore deve portare va in Youtube e mette pecora stupida stupida non è parolaccia no? pecora stupida tu vedrai che nella Turchia una pecora va in montagna c'è 400 pecora indietro lei salta 400 saltano perché la pecora fa quello che fa davanti sempre evangelica la pecora uno salta o vicino salta non sa cos'è quello ha detto una stupidaggine e il vicino dice amè tu amè 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 che cos'è? pecora un altro cd morire e volto sai qual è il posto più ricco del mondo? il cimiterio perché nel cimiterio le persone hanno portato donne e talento che non hanno mai dato a altri nel cimiterio nel cimiterio tu trovi libri che non hanno mai scritto musica che non hanno mai cantato tu quando mori devi gridare a Dio Dio sto morendo vuoto non il cimiterio non porterà niente posto più ricco del mondo il cimiterio e c'è un sacco di cd questa sera in omaggio alle donne predicherò su Esther le donne sono il gruppo di persone o essere umano più perseguitato nel mondo ho una missionaria brasiliana che adesso è ritornata in Brasile tu non vedi l'estate islamico l'islam tagliando la testa di donne tu vedi? dove sono le donne? le donne sono vendute come schiava sessuale e le donne sono perseguitate da Eva perché se noi prendiamo qualche uomo e dici no ma io sono così in peccato perché Eva è caduta ma la mia domanda è dove era Adamo che lascia la mole parlare con un serpente da sola? dove era? e io lo so perché Satana ha parlato con la donna perché la donna piace parlare perché se quello serpente si avvicinasse a Adamo e parlasse lui diceva un serpente che parla la donna che cosa ha fatto? che carino parla le donne parlano chi ha sposato? l'uomini parlano o no? siamo a letto e stiamo entrando nel primo sono cosa dice lei? dobbiamo parlare viene a pelle d'oca vero? tu sei davanti a televisione interi mila lei arriva amore dobbiamo parlare in quello momento le donne per favore non parlare perché lui dirà sì a tutto ma non perché concorda perché lui non è più lì lui è un altro pianeta l'uomo quando va a dormire o vede partita di cauccio non è più lì è sovranaturale la cosa le donne sono perseguitate per un motivo semplice satana sogna con quello che Dio ha dato a voi la donna per nove mesi fa una cosa che solo Dio fa che è dare vita capisce questo? nessun altro apra la sua bibbia in Esther se tu hai portato la bibbia se tu hai portato il cellulare iphone ipad apra android ossiamoci in nome di Gesù ossiamoci apra la sua bibbia in Esther e lascia aperta lì oggi noi parleremo di questa donna perché mi piace Esther perché Esther era una donna normale ma nella mano di Dio cosa normale diventa straordinaria mi piace Dio e mi piace la bibbia perché Dio non sceglie persone speciali lui sceglie persone che tu guarda e dici come è possibile Mosè nervoso assassino e Dio lui diventa il più mansueto del mondo perché questa è una rivelazione sei pronto vuoi che Dio transformi in mansueto come lui lui è passato 40 anni nel deserto nella casa della socia è scritto non c'è come non diventare mansueto o amassava la socia o diventava mansueto è diventato mansueto che Dio che Dio che Dio che Dio che Dio che Dio non sia io a parlare ma sia il tuo Espirito Santo con la parola che tu mi hai dato io sono sicuro che è per oggi e è per le persone che sono qui è per le persone che è a casa che tu possa usare mia vita questa sera ti chiedo nel nome di Gesù amè posso ceder in nome di Gesù io non parlerò un versetto io voglio solo che tu lascia aperto in Esther e raconterò la storia di Esther a mio modo sembra strano ma c'è nella Bibbia amè la storia di Esther è interessante nel capitolo uno di Esther racconta che c'era un re chiamato Assuero che regnava in una nella medio Persia o nell'imperio Persia e l'imperio Persia era così grande che iniziava in India e finiva in Etiopia e lui fa una cosa il reino è bello il reino è grande il reino è rico lui invita ogni sindaco diciamo così ogni capo delle 127 provincie perché lui aveva 127 città che appartenevano al suo reino e lui fa una festa di 180 giorni festa lunga tipo matrimonio in Sicilia 180 giorni e in questo 180 giorni quando finisce perché 180 giorni che sono sei mesi lui passegia in 127 provincia mostrando il suo regno dicendo ai tutti i capi delle provincie dicendo questo è l'imperio Persia e per finire questa passeggiata lui fa una cena così che dice un banchetto di sette giorni qua è un è un matrimonio in Sicilia era italiano questo sette giorni e dopo sette giorni lui dice la Bibbia perché Dio è molto educato quando scrive la Bibbia dice che lui era troppo felice traduzione mia umbriaco da morire sette giorni bevendo e lui fa una cosa lui dice guarda io voglio fare vedere a tutti voi quanto è bella la mia moglie questo è questo è marito umbriaco marito umbriaco generalmente fa così solo che la moglie secondo la Bibbia non è chiara ma la moglie non ha bevuto e la moglie che era la regina Vasti dice no dice guarda io faccio qualsiasi cosa ma passeggiare e fare una sfilata davanti ai tuoi amici no lui diventa nervoso perché perché nessuno poteva dire no al re e gli amici del re che non erano amici dicono che qua abbiamo un problema perché la regina ha detto no a te la preoccupazione di loro non era quella era che quando loro ritornassero a casa questa notizia anche se non c'era facebook e whatsapp per parlare però la notizia arrivava e le moglie di loro poteva fare come la regina Vasti e loro dicono re se la regina dice no a te la nostra amore dirà no a noi e tutte le donne del regno tu devi fare una legge subito guarda che interessante questa legge che le donne non possano dire no al marito bello o no no il marito ho visto uno che faceva così e lei ha detto no comunque lui ancora era umbriaco dopo sette giorni che cosa lui fa? lui mette la legge e fa un'altra cosa manda via la regina Vasti è l'ultima parte che è l'ultimo l'ultimo modo è l'ultimo momento che abbiamo visto questa regina lei sparisce il problema è che quando lui va a dormire il letto è grande dopo due giorni e un paracetamolo e un occhio lui stava bene e manca la regina e lui entra in depressione e gli amici dicono facciamo una cosa capitolo 2 facciamo un concorso di miss cosa dice in italiano? invenzione di Asuel di amici di Asuel e questo concorso noi mettiamo tutte le donne e tu sceglierai la più bella per diventare la nuova regina e questo concorso era bello perché era sei mesi di trattamento di bellezza più sei mesi di olio immagino una donna dopo un anno non lo so se sopravvive o si sparisce ma comunque era una cosa impressionante c'è una donna comune Esther ebrea figlia orfana di padre e madre e è cresciuta per un cugino chiamato Mardokeo con questa traduzione dice Mordecai usiamo Mardokeo questo Mardokeo ha dato il nome di lei e lei vince il concorso e si innamora di questa donna ebrea solo che lei non dice niente lei non parla che è ebrea non dice niente Mardokeo che è il suo cugino sta capendo la storia non sto predicando devo raccontare prima la storia poi predico Mardokeo è felice che lei ha vinto lei è una donna assolutamente normale come tutte le donne che sto vedendo qua orfana ebrea in un paese straniero peggio non può stare e diventa regina perché Dio schiava le cose strane per fare delle cose straordinarie sempre è stato così perché la gloria sarà sempre di Gesù ora questo Mardokeo è sempre seduto lì questa storia è una novela di Brasile vedrai è bella è bella questo Mardokeo è sempre seduto nella porta del palazio e ascolta due uomini che dicono noi dobbiamo ammassare il re a Suero e lui Mardokeo dice alla regina estera e dice guarda che vogliono ammassare il re la regina parla con il re e il re dà fine a questo due e il nome di Mardokeo è lì però il re non conosce chi è Mardokeo e prende come fiducia un uomo chiamato Amman che è un posseduto endemoniato capítulo 3 Amman è il braccio destro di è il braccio destro di A Suero e lui quando cammina per la città nel cavallo del re tutti uomini donne e bambini devono abbassare perché Amman sta passando solo uno non si abbassa come è il nome di lui Mardokeo e Amman comincia a avere una gastrite comincia a diventare nervosa arriva a casa e dice alla mole ma oggi è stato un giorno pessimo io ho passeggiato con cavallo tutti si abbassano ma c'è uno che resta in piedi che è questo maledetto chiamato Mardokeo va del re e dice re io voglio amassare Mardokeo non solo Mardokeo io voglio amassare tutti i hebrei questa cosa di amassare gente è vecchia non è di oggi oggi i cristiani i hebrei sono di atti da sempre non è una novità sempre ha existito qualcuno che voleva amassare ora Mardokeo dice a Esther dice Esther questo amant posseduto indemoniato vuoi amassare tutti i hebrei non non dimenticare che tu sei hebrea se lui amassa tutti amasserà pure te e capitolo 4 verso 14 c'è il verso principale del libro di Esther perché è un verso che mi ha toccato profondamente la regina dice io non posso parlare con il re perché è il re che deve chiamarmi io non posso arrivare lì lui è il re però la risposta di Mardokeo dice infatti se oggi tu taci soccorso e liberazione sorgeranno per i judei da qualche altra parte ma tu è la casa del tuo padre per i reti e chissà se non sei diventata regina appunto per un tempo come questo tu non sei nato nell'anno sbagliato tu sei nato per vivere adesso tu capirai questa sera perché ora nel capitolo 5 Esther dice al re guarda io voglio fare un banquete con te re insieme a mano perché la idea della regina era io dico al mio marito il re che io sono ebrea e che questo posseduto Amman vuoi amassare tutti i ebrei così lui mi libera e lui mi salva ma c'è un sacco di storie in mezzo perché Amman quando riceve la notizia che andrà a un banquete con il re più la regina arriva a casa e fa una festa sai che mi ha invitato a mangiare il re e che pure la regina e la regina che ha detto che devo andare Amman era pieno e un amico di Amman dice ma Mardocchio ancora è vivo è sai che fai vai va nella casa del re va nel palacio e sotto il palacio tu fai un capio così che dice per impicare Mardocchio quando tu stai mangiando con il re tutto questo c'è scritto quando tu stai mangiando con il re e la regina il re dirà dimmi cosa vuole e tu dici subito voglio amassare Mardocchio il re dirà allora Amman costruisci un capio e lui dirà già ho fatto è qua sotto questa era la idea del posseduto Amman il problema guarda se non è una novela messicana brasiliana e boliviana lui va a costruire questo tre di notte il re sta dormendo perde il sonno si sveglia e dice a qualcuno portate qualche libro perché non riesco a dormire portano un libro con tutto che succede in quelli mesi nel suo regno e lui legge incredibilmente è una coincidenza incredibile lui apre il libro alle tre di notte non riesce a dormire e legge che un uomo chiamato Mardocchio lo ha salvato la vita e lui guarda quello e dice ma questo Mardocchio mi ha salvato la vita noi abbiamo fatto qualcosa per aiutare Mardocchio e quello che ha dato il libro ha detto no non abbiamo fatto niente 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 allora chiamate Amman voglio parlare con lui potete andare a casa di Amman e chiamano lui uno dice Amman è qua sotto allora chiamano lui Amman arriva non sembra una novella peggiorará aspetta Amman arriva re sono qui il re dice Amman se io voglio domani onorare un uomo cosa devo fare Amman dice è a me c'è un banquete mi ha invitato ha detto re secondo me tu devi mettere quest'uomo in un cavallo un cavallo che tu hai camminato e tu devi mettere qualcuno vicino a quest'uomo qualcuno importante nel regno che mentre cammina per la città e la gente si abbassa lui parli tutto il tempo questo è l'uomo questo è l'uomo questo è l'uomo il re ha detto mi piace domani prendi il cavallo metti Mardokeo sopra e tu passerai tutta la città dicendo questo è l'uomo questo è l'uomo mi fa pena Amman io penso che Amman quasi ha avuto un infarto la storia finiva ha detto chi Mardokeo perché Mardokeo ha salvato mia vita domani mattina Amman prepara il cavallo mette questo Mardokeo sopra e tu passeggi allora immagina nell'indomani nel cavallo c'è Mardokeo tutti abbassano e Amman questo è l'uomo questo è l'uomo questo è l'uomo tutto il giorno poi arriva qualcuno e gli dice Amman sei in ritardo c'è un banchetto ah c'è un banchetto è vero lui va al banchetto quando arriva il banchetto lui è seduto c'è la regina e c'è il re la regina dice re ho due notizie per darti prima io sono ebrea il re dice sei ebrea sì sono ebrea e la seconda è che Amman questo poverino di Amman questo qui che stava prendendo la carne questo qui vuoi amassare tutto il mio popolo incluso me perché sono ebrea il re guarda lei e guarda lui dice Amman tu vuoi amassare la regina e Amman dice no no è bene così lui ancora aveva questa idea questo è l'uomo ancora sempre non è bene così signor re però la questione è che Mardoke 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 ha salvato la mia vita lui stava peggiorando tutto il re dice non parlare più te Amman e non parlare regina perché anche tu mi hai detto una bugia prima perché non sapevo perché tu è l'ebrea facciamo una cosa io voglio fare una passeggiata nel mio palazzo e tra cinque minuti ritorno devo pensare cosa faccio con voi due e esce qua io devo fare la scena in slow motion perché veramente incredibile allora il re esce Mardoke è seduto Amman è seduto la regina è seduta lì Amman si alza per andare nella regina perché la idea di Amman era buttami per terra grido misericordia e lei magari ha misericordia di me quando ritorna lei dirà qualche parola buona perché se no io muoio qua idea giusta vero anche io facevo questo il problema in slow motion Amman si alza il re già sta ritornando tutto cronometrato la novella è cronometrato lui comincia a correre in slow motion il re sta venendo il re sta aprendo la porta lui in c'è un piede Amman vola sopra la regina e loro cadono per terra nel momento che riapre la porta e vede quello e grida Amman non solo vuoi amassare lei ma tu vuole lei pure allora qualcuno grida perché sempre c'è qualcuno che grida lui deve morire lui deve morire impicchiato il re dice ma dove possiamo trovare un capio c'è uno qui sotto è una novella no? e lui mori nel capio che ha fatto a Mardokeo Mardokeo diventa il secondo uomo dell'imperio persa e Esther diventa la regina che ha cambiato la storia e ha salvato il popolo ebreo che cosa vuoi insegnare la storia di Esther per noi questa sera cosa serve a noi in 2015 tre cose Dio ha amministrato al mio cuore e che mi ha salvato e che mi ha insegnato tanto la prima Dio ha la storia in mano dice la persona vicina a te Dio ha la storia in mano Dio non è perso nell'universo tutto che succede Dio lo sa Dio non ha perso la tua storia e neanche la storia del mondo quando un giorno ho predicato e pensavo io sono un ex estregone un ex mago nel giorno della mia conversione io ero così posseduto che i pastori facevano giro per cacciare perché stancavano se io sono qui oggi è perché la grazia di Gesù è più potente che questo e se altre cose non esiste altre cose più potente che questa una volta ho predicato che in cielo sai abbiamo l'immaginazione no io ho predicato sulla caduta di Lucifero del cielo io ho raccontato una storia così allucinante che Lucifero ha chiamato un terzo degli angeli ha preso la spada e Dio era preoccupato ha parlato con i serafini e chiama Cherubini perché c'è una lutta in cielo quando finisce il culto tutti dicevano amén che rivelazione quando finisce il culto lo Spirito Santo mi dice ciao Alexandre ciao dove hai letto quella cosa io ho detto non ho letto ho usato l'immaginazione per ma tu hai fatto quella guerra matrix uno due tre Gesù era new dove hai letto che Dio ha preso una spada e Lucifero ha lottato dove hai letto questo no non ho letto però sai il Spirito Santo no non lo so il Santo mi ha detto vuoi sapere come è successo certo allora è successo così un giorno Lucifero ha pensato sarò Dio ha aperto gli occhi e non c'era più in cielo era finito solo questo sì Dio ha la tua storia in mano non succederà niente nella tua vita se tu rimani nell'amore di Cristo niente la Bibbia dice che i tuoi capelli sono contati chi ha pezzinato i capelli prima di venire le donne pezzinano tanto quando tu hai pezzinato in cielo è arrivato meno 27 meno 13 meno 45 io ho visto gente che non c'è capelli ah lì arriva niente tra su perché perché la tua vita è e sta nella mano di Cristo se tu non ci credi in questo sai come tu dormi tu non dormi la crisi in Italia è arrivata sai qual è il segreto per vincere la crisi dare 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 io vivo per fede da 20 anni non la tua la mia perché c'è gente che vive da fede di altri io della mia io avevo un stipendio di 10.000 euro alla settimana io già ho detto che con 10.000 tu sei pure bello ero bello quando mi sono convertito la prima domanda a Gesù ma quanto tu mi pagherai lui ha detto meno meno quanto molto meno e io ho avuto un'idea geniale ho detto Gesù se tu mi dai un milione di euro io sarò tranquillo tutta la vita posso lavorare per te lui ha detto no ma non ci darò mai perché perché io ci darò il necessario e sai qual è il necessario arriva nella mia tasca e io devo dare arriva nella tasca io devo dare un giorno ho comprato una cosa mi serviva arriva un missionario dice esattamente che doveva viaggiare che non c'era quella cosa e io ho fatto finta di niente pregherò per te fratello e già e già sto andando a casa perché ho detto qua lo Espirito Santo mi ha detto che stai facendo niente io pregherò per lui non deve pregare per lui ah no no tu deve dare ma è mio non è tuo io vivo per fede Dio benedì e Dio sa quanto è necessario nella nostra missione e nella mia vita lì a Londra ma io ti dico una cosa mentre tu dà Dio ritorna sai perché credente è miserabile e è povero perché si fida dell'estipendio se tu ti fida dell'estipendio che tu arrivi a tasca tua perché tu hai lavorato tu vivrà di quell'estipendio ma se tu credi in Gesù per le tue finanze quell'estipendio non serve a nulla tu non ti fida dell'estipendio e quando arrivi a stipendio tu puoi dare tutto perché chi ti controlla è Dio questo è un argomento un po' complicato perché in tempo di crisi umanamente parlando è mettere da parte in cielo è da tutto ma come se non avrò no tu avrà se dà se non dà non avrà è strano vero come è che Dio ha benedetto e ha cibato 5.000 persone come facciamo un ritorno facciamo questa storia velocemente quella bambina sta uscendo di casa la mamma dice prende due pane e pesce perché c'è Gesù lui parla lungo prende figliolo porta era una mamma siciliana porta questo pane porta questo pesce quando Gesù si ferma un po' come mangia Gesù voleva fare un miracolo cosa ha detto se posso fare se qualcuno dà chi ha due pane e pesce quello bambino poverino stava quasi mangiando venne Pietro con la spada che cosa è questo è pane e pesce che mia mamma siciliana mi ha dato dammi qua Gesù sta chiedendo dammi questo capisce è semplice tu dà e Dio ci dà la crisi arriverà no già è arrivata e peggiorerà mi dispiace tanto dirlo le notizie bibliche peggiorerà tutto ma c'è una promessa preghiera per dormire lavoro e casa solo pagani fanno un altro giorno una sorella della mia missione ha detto può pregare per me e ho bisogno di una casa per dormire ho detto io non faccio preghiera pagana questi pagani che fanno perché Gesù ha detto cerca il primo reino e tutte le altre cose vi sarà regalata regalata è questo che dice la Bibbia Dio ha la storia in mano qualcuno già ha visto un uccello nella porta della banca chiedendo in prestito di soldi qualcuno già ha visto chi è andato in ospedale qui già ha visto qualche uccello camminando per prendere il sangue che sta male io mai perché perché la Bibbia dice che Gesù ciba gli uccelli gli uccelli non c'è crisi vero perché lui ha la storia in mano la nostra storia nella mano di lui la tua storia non è un sbaglio c'è persona qua che noi pregheremo tra poco che è nata è qui questa sera però ha saputo che tua mamma o tuo padre non ci voleva e tu hai passato la vita pensando che se loro non volevano te neanche Dio ci voleva questa sera io ti dico una cosa padre e madre è solo per mettere nel mondo perché tu sei nato non per una notte di amore tra tuo padre e tua madre tu sei nato perché Dio ha voluto la seconda cosa che mi insegna la storia di Esther questa ha cambiato la mia vita e cambierà la tua nel nome di Gesù è il Kairos 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 è una parola meravigliosa Kairos parla di tempo nove mesi Kairos Kairos ma quando il bambino esce di lei Kairos è il momento pieno non c'è una traduzione c'è che quando arriva il tempo di Dio nasce capisci questo? quando il bambino nasce nasce perché tu hai mangiato tu hai passato giorni difficili le tue gambe sono gonfie tu sei ingrassata gli ormoni sono cambiati tutto questo per preparare quello minuto dove il bambino nasce quello Kairos ora io credo che Dio ha un Kairos per noi io credo che molti qui e Dio mi ha detto predica questa parola perché c'è gente estanca questa sera che è lì io credo che tu alza a Alemanha adora Gesù è buono Gesù è buono ridere e parliamo quella bugia più grande che credente parla come stai tutto bene questa sera Dio ti dice io lo so che non sta bene ma tu capisca una cosa arriverai tu Kairos arriverai un giorno che Dio dirà a te è oggi oggi io conosco gente che sta lavorando per Dio come missionario per 5 persone per anni e un giorno Dio arriva e dice è oggi e quando Dio dice è oggi non c'è demone non c'è satan non c'è inferno non c'è niente è oggi sa che Gesù ha detto in Giovanni capitolo 12 verso 27 la mia anima è triste fino alla morte ma è per questo giorno che sono nato la croce è stata Kairos dice Gesù io credo che Dio arriva e dice ho una porta aberta dove solo chi può passare sei tu la gente pensa che quando Dio apre una porta c'è una lotta di persone per passare non è vero la porta è alla tua misura la porta è tua perché solo chi ha sofferto solo chi ha pianto quello che tu hai pianto solo chi ha passato quello che tu hai passato può passare quella porta è il tuo Kairos quando Dio mi ha detto va a Londra non può capire io sono arrivato a Londra con una valide comprata dai cinesi non comprare valide dai cinesi perché cinque minuti dopo quella va via e tu devi portare quella cosa con te non comprare ho detto Dio dove devo andare e Dio ha detto vai ho dormito in una casa con 20 persone già dormito con 20 persone io dormivo abbracciato con uno e sveglavo abbracciato con l'altro è arrivato un momento che la casa era così piena che mi hanno detto non c'è posto Alessandro c'è la vasca vasca dove vasca che devo fare mettiamo qualcosa nella vasca e tu dormi lì oggi hai dormito in vasca io sì è orribile perché alle 5 di mattina entrano nel bagno la vasca è lì io ho fatto la mia valide ogni giorno andavo nel parco con quelli scoiatoli perché a Londra è pieno di scoiatoli che è un topo che è andato in università ma è un topo camminando e io dicevo a Dio voglio andare via Dio diceva ok puoi andare io ti benedirò ovunque tu sei mio figlio ma il tuo cairò è qua qua io arriverò un giorno e vedrò tutto che tu hai passato e dirò è oggi e le porti si apriranno se tu non vuoi aspettare puoi andare via io sono stato lì e un giorno lo Spirito Santo ha detto è oggi quando ha detto è oggi io sono a Londra da dieci anni già la mia famiglia è andata a Londra abbiamo una missione che non è una chiesa evangelica è una missione libera perché io credo nel regno io credo che Dio è qui e Dio è là io ho una visione del regno così aperta che il mio culto è sábado domenica io dico a loro aiuta altri a fare evangelizzazione perché io credo che siamo liberi in Cristo Gesù ora c'è gente qui che già ha fatto tutto matrimonio figlio e dici quando arriverà Dio dici arriverà e la terza cosa è perché arriva Kairos per qualcuno e non per altri perché abbiamo un problema con una preghiera c'è una preghiera che tu non potrai più fare dopo questo culto perché se tu continui a fare il tuo Kairos non arriva la preghiera è una domanda perché perché lei è sposata e io no perché il matrimonio di lei va bene e il mio no perché mio figlio è morto perché quella persona che io amavo ha un cancro e sta per morire perché Dio non ha guarito mio marito perché il 99% delle volte la risposta di Dio sa qual è perché no Dio si è in silenzio perché la domanda del perché geralmente Dio non risponde perché tu non puoi vedere tutto noi vediamo un pezzo Dio non può spiegare e geralmente Dio non spiega e quando Dio fa silenzio noi Giobbe chi ha sofferto più di Giobbe nella Bibbia? Non conosco capitolo 3 di Giobbe Giobbe capitolo 3 o 4 non mi ricordo bene Giobbe fa 16 domande iniziando con perché perché mia mamma il latte non è secco e lei non sono morto perché non sono morto prima della mia nascita 16 volte perché risposta di Dio silenzio totale e nella fine del libro di Giobbe Dio risponde sai come? con 70 domande Giobbe tu mi hai fatto 16 domande ti risponderò con 70 dove eri tu quando ho fatto il sole? dove sei tu quando il figlio del leone ha fame e piange e io devo trovare cibo per lui dove sei? dove sei tu quando ho fatto le stelle? dove sei tu quando io ho chiamato le stelle per nome? io immagino che le domande di Dio ha fatto Giobbe piccole il problema di Giobbe sai qual era? perché Giobbe non conosceva Dio nella fine del libro lui dichiara io ci conoscevo di ascoltare ma adesso ci vedo sai qual è la risposta di Dio per il tuo perché? è lui stesso lui quando tu dici perché mio figlio è morto lui viene e se tu vedi lui tu non hai più domanda quanti stanno capendo? c'è gente questa sera che è piena di domanda perché mio matrimonio è stato falito? perché lei mi ha tradito? perché io era membro di una chiesa e quello pastore ha fatto quello perché? perché ho dato mio cuore a quello gruppo e quello gruppo mi ha ripagato di quello modo tu hai perché piena di perché ma questa sera sono venuto da Londra per dire a te Dio non ti risponderà questa sera lui si appresenterà a te e lui sarà la risposta di ogni perché è strano è strano io voglio finire prima dell'appello raccontando una storia la prima cosa che Mosè ha fatto quando è stato chiamato ti ricorda la chiamata di Mosè? una chiamata assolutamente normale lui cammina c'è un albero Dio è lì mi piace Dio prima cosa che Mosè domanda a Dio qual è il tuo nome? vero? per un ebreo il nome è molto importante per questo Dio ha cambiato il nome di un sacco di gente e Gesù anche il nome è importante qual è il tuo nome? noi abbiamo tradotto come io sono quello che sono altri hanno tradotto come Yahweh altri hanno tradotto come Jehovah altri come Signore ma in verità nessuna di questa parola è giusta il nome che Dio ha dato e io parlavo con un rabbino convertito e lui mi ha dato l'espiegazione che mi è venuta la pelle d'oca lui mi ha detto Alessandri la parola che Dio ha risposto a Mosè non è io sono quello che sono quello abbiamo tradotto noi ma la parola sono quattro parole in ebraico che insieme è impronunciabile non si può parlare è un suono e i rabbini dicono che il nome di Dio dato a Mosè è lo stesso suono del respiro e il rabbino dice sarà la prima parola che o essere umano dirà quando nasce e sarà l'ultima prima di morire prima che tu morirai l'ultima parola non è un nome della tua mole o della tua figlia è è un nome di lui per questo la Bibbia dice che ogni creatura l'ho da lui come il mio cane non è l'orda lui perché respira tu puoi capire un Dio che si chiama con un solo e respira Dio è così grande che neanche il suo nome riusciamo a parlare questa sera Dio ti sta chiedendo una cosa fidati di me la storia nella mia mano quando tu respira tu mi adora io sono un Dio più grande del più grande pensamento o immaginazione che tu puoi avere non c'è come definire Dio tu puoi definire Dio no lui è così grande che invade e distrugge ogni struttura preghiera preghiera non è parola voglio ripetere Gesù ha detto entra nella camera chiude la porta e mio padre che vede non dite ascolta vede quando tu finisci di sfogare di dire perché Evangelio che cosa fa parla versetto a Dio Dio dice grazie che mi ha ricordato il versetto ma quando tu non hai più parole e cominci a piangere in cielo Dio dice adesso hai iniziato a pregare questa sera Dio ti dice fidati di me non ho perso il controllo del mondo e non ho perso il controllo della tua vita non sono dimenticato di te fidati il tuo kairos arriverà questo matrimonio non è ancora finito questa malattia non ti ha amassato ancora e questa sera noi faremo una cosa insieme diversa ossiamoci nel nome di Gesù che ho detto anche nel nome di Gesù io ti invito a fare una cosa che Mosè ha fatto ha provato a parlare nel nome di Dio io ti invito a fare un bel respiro a fare a fare a fare i tuoi occhi non chieda niente a Dio respira Mentre loro staranno suonando io voglio fare due appelli insieme il primo è per te che non conosco che non conosco questo Dio meraviglioso tu non lo conosco tu non lo conosco ma parla il nome di lui da quando sei nato perché se tu ti ferma a parlare il nome di lui tu muori prova a non respirare per tu vedere se tu vuoi se tu vuoi conoscere questo Dio straordinario che trasforma mago in pastore prostituta in donna di famiglia Esther in Regina e Saulo in Paolo Sara una musulmana e una ragazza piena del Espirito Santo di Dio questo Dio che trasforma le cose io quando arriverò in cielo io non voglio sapere della mia corona non voglio sapere in strada di oro io voglio vedere lui perché io era indemoniato posseduto e oggi sono pieno dell'Espirito Santo che ha creato il mondo è straordinario tu che vuoi ricevere questo Dio meraviglioso esci del tuo posto e vieni qua davanti io voglio pregare per la tua vita perché tra poco mi ne vado ma ci voglio trovare in cielo ah pastore ma devo diventare religioso non non è religione è Jesus mentre loro sonerano esci del tuo posto veloce venga qua io voglio pregare per te il secondo apelo è tu sei stanco sei stanca tu sei tu sei questa sera ma dentro di te c'è una tristezza profonda ci chiama affidarsi di lui affidarsi esci del tuo posto tu che sei stanco e non ce la fa più e vieni qua davanti io voglio pregare per la tua vita perché Gesù è qui Gesù è qui Gesù è qui Gesù è qui adoriamo in nome di Gesù chiudi i tuoi occhi adori lui è qui lui è qui può venire vieni qua vieni qua vieni qua in nome di Gesù vieni 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 voglio invitare il pastore a aiutarmi esci del tuo posto vieni veloce 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 Gesù è qui noi respiriremo insieme anche da casa fate la stessa cosa anche in questo momento in diretta fatelo dovunque voi siate uscite dai vostri posti non lasciare qui questa occasione vieni vieni respirate respirate ci vuoi vedrete che sei venuto proprio verso di te mi hai cercato mi hai cercato e mi hai salvato attirando a te Al cuore quella immensa grazia dentro di te L'hai mostrata sulla croce per te La grandezza di te